Cerca lo spunto, poi il cross di interno sinistro, diventa quasi un tiro Ancora Stoccarda, buona qui la palla, profonda in verticale Maxime poi va col destro Sané ha un po' di spazio, entra sul sinistro Sané, calcio a secco ma Titon si allunga, la mette in calcio d'angolo Largo da Kostic adesso, spinge tantissimo lo Stoccarda, la palla per Gentner E ancora Ferman con un miracolo Lancio a cercare Sané, è velocissimo Sané, può puntare l'area di rigore, Sané ha davanti Klein Sané, bella la giocata di Sané Tutto il talento di Leroy Sané, vantaggio Schalke 0-4 al 53esimo minuto Kostic c'è dentro, buono il pallone stavolta per Ginzek La palla resta lì per Werner, ancora Ferman La palla dentro e ancora Ferman Si salva, poi Ginzek non riesce a ribadire in rete Poi Chupo Motting, vince un ripallo Chupo Motting Che prova a piazzarla con l'interno sinistro ma la mette fuori di un soffio Palla larga, buona la giocata di Klein Ha un po' di spazio per mettere la palla per Ginzek, ancora Superferman Oggi in versione Superman Il cross, dentro a cercare Arnick, buca La palla resta lì ancora per Arnick, sottoporta Fischia, la fine, Manuel Grefe Stoccar da Schalke Storia Finisce 1-0 per lo Schalke 0-4